Ad Agora Serena Mortone questa mattina mi ha chiesto se io sarei disponibile a pagare una patrimoniale. Sì, sarei disponibile, devo dire di più. Credo sia doveroso che chi più ha in questo momento metta a disposizione delle persone che meno hanno, per cui secondo un criterio di proporzionalità credo che sia giusto che tutti noi contribuiamo allo Stato, perché lo Stato ha bisogno di noi, perché la crisi sarà pesante. Io credo che la patrimoniale in un caso straordinario come questo è una scelta giusta.